C'è distruzione e disperazione, si sgretolano anche gli argini, le case ora sono in pericolo. Questa volta è la terza volta, questa è stata la seconda volta, fino qui. E adesso l'ultima è andata avanti al doppio. E ora si guardano a vista le prossime ore. Nelle prossime ore il territorio vicentino sarà ancora interessato da precipitazioni, per lo più di debole intensità, fatto salvo per qualche rovescio a carattere locale. Che interesserà maggiormente le zone centrosettentrionali della provincia. La giornata di domani inizierà ancora con deboli pioggi al primo mattino, poi con il passare delle ore osserveremo schiarite sempre più ampie.